Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio su The Legend of Zelda Link's Awakening Mi raccomando ragazzi massimo supporto per il nostro piccolo amichetto Link che dovrà affrontare tantissimi altri problemi, nemici e nikmi Se avete perso i primi due episodi non vi preoccupate li troverete sotto in descrizione che vi lascerò il link della playlist completa di questo gioco Dunque non vi preoccupate io vi consiglio di andarli a recuperare entrambi ragazzi visto che comunque è una serie tutta collegata Comunque ragazzi nel secondo episodio abbiamo preso il secondo strumento musicale che si trattava semplicemente di un corno a forma di conchiglia Il problema sta che non abbiamo ricevuto informazioni dal nostro piccolo amico con le ali cioè il gufo e non ci ha detto cosa bisogna fare, dove bisogna andare ma va bene Ok ragazzi in poche parole questo tizio ci sta facendo delle tessere dei labirinti perché possiamo creare il nostro labirinto personale attraverso quale se ci riusciamo ad uscire da questo labirinto ci danno ci dà dei premi veramente molto molto interessanti hai ottenuto delle tessere collocale in un labirinto per vedere come sono fatte perfetto Ok ragazzi in questo preciso momento visto che non so dove andare esattamente sto esplorando un pochettino la mappa del gioco io sono in questa zona visto che sono riuscito a liberare delle pietre sono riuscito a spaccarle sono finito qua e sono ovviamente curioso visto che ci sono tante grotti in questi monti tal tal Ok ragazzi il portacuori a noi si 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 ragazzi finalmente hai ottenuto un frammento di cuore perfetto ragazzi nell'uovo lì in alto il pesce vento sogna ignaro del momento in cui il suo riposo avrà termine perché quando gli otto strumenti musicali saranno suonati al cospetto dell'uovo il pesce vento si sveglierà noi ce ne abbiamo due ragazzi questo è l'unico modo per lasciare l'isola percepisci una strana energia provenire da questo pedestallo devi assolutamente scoprirgli di che cosa si tratta non ne ho la più pallida no ah è il teletrasporto secondo me ragazzi proviamolo ok ho capito è il teletrasporto bellissima bellissima cosa ok ragazzi sono ritornato al mio villaggio perché voglio prendere innanzitutto la pala ma voglio scoprire un attimino dove devo andare perché non ne ho la più pallida idea visto che tutte le strade sono bloccate e non riesco proprio a andarci dall'altra parte della mappa da questa parte qua non riesco proprio a andarci sto cercando notizie per andare da qualche parte dentro sto parlando con un tarin avevo un certo languirino e così sono andato in spiaggia a prendere delle banane gnam gnam jemilini seppure tu hai fame vai in spiaggia a prenderle dunque prendiamo la pala parliamo questa è la bellissima pala viene soltanto 200 rupie no non è mica cara eh abbastanza per una pala grazie infinite torno a trovarmi perfetto abbiamo trovato anche la pala molto bene poi ci prendiamo il frammento di cuore solo 200 rupie perfetto ragazzi perfetto ragazzi guardate cosa mi faccio con 7 cuori attenzione il nostro piccolo link diventa sempre ancora più forte diciamo che questa puntata sarà un po' di esplorazione della mappa eh raga visto che non abbiamo fatto tantissimo fino adesso perfetto ragazzi abbiamo 3 punti molto molto bene ehi richard mi sono liberato di bao bao se contento possiamo parlare finalmente salut oh non farà caso alle circostanze del nostro incontro crediamo ma il castello è la mia vera casa ahimè i miei servitori sono diventati dei mostri e io mi son visto costretto a ripiegare questa umile dependance tu cosa mi dici cerchi una chiave oui potrei aiutarti se prima tu aiuterai me vorrei che recuperassi la foglia d'oro che ho lasciato nel castello dopo l'invasione dei mostri che ne dici va bien va bene richard fantastiche or bien a essere precisi le foglie sono 5 e io le voglio tutte ah un'altra piccola cosetta prima di tornare assicurati di avere una pala merci ok ma la cosa più importante è sapere come entrare nel castello il castello è qui bisogna fare tutta quella stradina qui oh my god ok ragazzi direzione castello dovevamo essere già arrivati veramente molto facile distruggiamo questo mostro schifoso il lombrico ma cos'è questa cosa schifosa muori no i rani no non ci credo ci sono i rani anche su zelda non ci posso credere adesso prendiamo un po' di cuori visto che secondo me ci sarà un boss secondo me in un castello secondo voi non ci sarà un boss ok ragazzi ho perlustrato un po' la zona e non c'è una ceppaleppa di niente lì non ci possiamo andare perché non ci riesco ad andare devo andare nell'acqua ma non posso andare perché affogo dunque entriamo nel castello di canalet la magione sembra disabitata ma all'improvviso sentì rimbombare una voce io sono lo spirito che risiede nella magione delle conchiglie stavo aspettando qualcuno in grado di sfidare l'oscurità trova le conchiglie nascoste sull'isola portale qui e sali sulla piattaforma se ne sarai degno riceverai una spada con il potere della luce bellissimo insomma devi tornare con un sacco di conchiglie poi montare sulla piattaforma e vediamo cosa succede visto che io ce ne ho già due guardiamo cosa succede non succede niente forse non hai abbastanza di conchiglie certo che questo draghetto qua ha sempre fame secondo me adesso ci danno le banane come baratto è squisito senti lo so che non è uno scambio eco ma prendi queste banane ah che bontà eh vabbè ragazzi quasi scontato eh ok ragazzi visto che non ci danno molte indicazioni per il prossimo punto della destinazione dove dobbiamo andare per prendere un altro strumento musicale sto andando un pochettino in giro nella mappa per cercare qualcosa da fare per cercare qualcosa che non abbiamo ancora fatto e sto diciamo un po' esplorando la zona uh cosa ho trovato così a random grandissimo ragazzi cos'è? posso andare? c'ho paura ok ragazzi questo gioco qua è pieno di enigmi mamma mia è pieno di enigmi qua sicuramente la polverina ok è pieno di enigmi bisogna guardare veramente tutto anche i massi distruggerli tutti quanti raga ehi tu si dico proprio te mocciosetto come osi interrompere il mio sonno adesso ti ripagherò a dovere ti maledirò con una borsa del polvere magica più grande uh sei pronto? fatti sotto amico uh te lo sei meritato guarda quante Gianfrusaglie sei condannato a portarti dietro ha ora sparisci e lasciami dormire mocciosetto 40 di polvere ragazzi tanta roba ci siamo eh manca poco ragazzi resistete perché io non ce la faccio veramente più sto girando da un'ora parliamo con la scimmietta banane banane uh uh dai a Kiki sì certamente banane banane uh 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 Kiki amici vieni aiuta Kiki lo sapevo ragazzi costruisce un ponte lo sapevo ragazzi che costruiva un piccolo ponte grandissimo no grandi raga che culo vabbè vabbè me la sarei immaginata ragazzi aveva fame avevamo parlato di banane 2 più 2 raga fa 4 dunque tanta roba tutto fatto ponte fatto ciao ciao uh uh Kiki Kiki grazie mille Kiki grande bella scimmietta grazie mille bastoncino per me hai trovato un bastoncino tra i residui edilizi scimmieschi ok perfetto siamo entrati diciamo nel castello nel castello di Camelot non so non mi ricordo più come si chiama raga no ragazzi così è una puntata un po' tutta random questa raga ma sto facendo tutto a caso che culo raga ok ci porta all'interno del castello ok ragazzi visto che queste scale portano all'ingresso del castello io vi lascio qua con questo terzo appuntamento noi ci vediamo presto con il quarto episodio dove entriamo nel castello e cerchiamo di prendere quello che dobbiamo prendere per Richard il nostro amico francese e speriamo che sia una passeggiata perché secondo me non lo sarà mai sarà veramente difficilissimo pieno di enigmi pieno di nemici altrettanto fortissimi ragazzi come vedete lì c'è un guardiano del castello che secondo me è veramente spaventoso e niente ragazzi noi ci vediamo presto con il prossimo appuntamento dove invadiamo il castello di Richard per prendere il suo tesoro e noi ci vediamo presto con un nuovo video mi raccomando massimo supporto per questa nuova avventura su The Legend of Zelda Link's Awakening ciao ragazzi ciao gamer ciao